amiche benvenute al centodiciottesimo aperitivo online ciao aria ciao romualda dai che fra poco è finita sì ciao come state ah non me lo chiedere è una tragedia il virus ma che virus guarda che ricrescite a me va tutto meravigliosamente e aria hai provato a farti la tinta quale tinta quella che ti ho spedito online con amazon in pacco regalo ah non era un sugo al pesto ci ho cucinato gli spaghetti mamma devo fare la cacca vai a farla amore che poi ti pulisco il culetto mamma ho dato fuoco ai libri di papà oh non preoccuparti dopo chiamiamo i pompieri vorrei fare una lampada farmi fare due massaggi e guarda le mie unghie sembro un x man voglio un estetista mamma gigi ha ucciso un passante e come ha fatto mi è caduto il tuo armadio delle scarpe dalla finestra oh non preoccuparti sicuramente non indossava la mascherina ragazze invece a me va tutto meravigliosamente anch'io voglio l'estetista mi devo arricciare i peli del naso per non farli uscire ho bisogno di una ceretta completa si una ceretta voglio una ceretta la voglio più del sesso a proposito di sesso maledetta quarantena non vedo il mio moroso da due mesi ah il dino quel bel biondo che fustacchione sì che uomo più maschio di zaia de luca e conte messi insieme come mi manca aria si avanza ancora quei spaghetti con quel sugo bon che te mi è fatto a mezzogiorno no dino te li sei scofanati tutti ma ma sai com'è il tuo moroso era di passaggio ma poi per la quarantena non è più potuto tornare a casa ah peccato ti aspetto dell'anletto dai che fermo un po de bagin jumping senza corda appena finisce la chat con ste cretine vengo da te amore ma mamma mi sono cagata addosso a me va tutto meravigliosamente oh guardate che occhiaie siamo proprio orribili beh tu facevi cagare anche prima ma ce l'hai con me ma vaffanculo befana ma io ti stacco la testa ah va via aiuto i vigili il distanziamento sociale che fatica e tu romualda non ci racconti niente a me va tutto meravigliosamente senti romualda non cagare il cazzo non è possibile che la nostra vita è una merda e a te va tutto meravigliosamente ma mamma mi sono cagata addosso ma sì a me va tutto meravigliosamente non c'è problema amore ti pulisco con la mucchina l'ho pulito io ma mi è caduta l'exa nel water e non riesco più a tirarla fuori a me va meravigliosamente forse è merito dei bimbi ah già guarda romualda è così piena d'amore ma che piena d'amore sono piena di psicofarmaci grazie per aver guardato questo cartone animato se volete che ne faccia altri iscrivetevi al canale nicola brusco con il bottone alla vostra sinistra e alla prossima grazie per aver guardato il video